Una ragazza? Va bene signori, comunque stiamo andando verso due statue che si chiamano i Colossi di Mimnon. I Colossi di Mimnon rappresentavano originalmente un soprano egiziano che si chiama Amonofesterso. Amonofesterso infatti ha dato il soprannome I Colossi di Mimnon a queste due statue. Perché I Colossi di Mimnon? Quanta gente. Una ragazza? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.